Sono felice e contento nella mia veste ufficiale, non di Presidente del Consiglio, non di Segretario, ma di aspirante conduttore televisivo, di presentarvi il prossimo Sindaco di Roma, Roberto Giacchetti. Io non so come va a finire, mettiti a sinistra che a me incomprensibilmente mi hanno lasciato Poi mi danno sempre questi scabelli che mi fanno sentire molto rilassato e libero, infatti girano come potete vedere.